Per quanto riguarda la sensibile questione della coltivazione degli OGM, lo scorso giugno, come sapete, il Consiglio Ambiente ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di modifica della direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. La proposta consentirebbe agli Stati membri di limitare o vietare in tutto il loro territorio, in parte di esso, la coltivazione di OGM autorizzati a livello europeo, purché tali misure siano basate su motivazioni diverse da quelle legate a rischi ambientali o per la salute dell'uomo che sono già previste dal sistema di autorizzazione in vigore. L'accordo raggiunto rappresenta un valido equilibrio tra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri. In linea con il principio di sussidiarietà, siamo quindi fiduciosi che il processo di negoziazione con il Parlamento europeo, che come Presidenza lanceremo nelle prossime settimane insieme ai colleghi ministri dell'ambiente e della salute, permetterà di raggiungere un accordo entro la fine dell'anno in corso. Grazie a tutti.